Mai così tanti incontri con Costantin Malufiev, di chi avete parlato? Come chi? Malufiev, Costantin Malufiev, l'oligarca russo. Lei l'ha invitato nel 2013 al congresso della Lega Nord, quando è stato eletto, come mai? Eh, come mai? Non capisce la domanda, parla italiano. No, no, lei parla italiano, se vuole ne parliamo seduti, tranquilli. E quando possiamo parlarne? Quando vuole, guarda, non mi sembra questo il contesto.